Tutti gli altri partiti. E Montefanum, poco prima dell'ingresso, prosegue in vantaggio Pistonesi davanti a Presintesan, Runaimbosa, Icebreaking. I cavalli entrano in dirittura con Presintesan lungo la corda, con all'esterno a centropista Pistonesi, seguono Runaimbosa, Icebreaking, Mujahidbon, Montefanum, Pierdelone, Melite. E in leggero vantaggio Pistonesi, attaccato all'esterno da Icebreaking, seguono Lunaimbosa, Pierdelone, Montefanum, Melite. All'interno è Pistonesi, all'esterno Icebreaking. E in leggero vantaggio Icebreaking, davanti a Pistonesi, Pierdelone e Melite. Conduce Icebreaking davanti a Pierdelone, Pistonesi, Melite e Lunaimbosa. Vincitrice annunciata Icebreaking, ma abbiamo anche l'accoppiata e la trio.